Cosa state facendo? Allora, stiamo ripulendo il fiume dai detriti. Quale fiume? Il ravone, il torrente ravone. Stiamo togliendo dei rami che erano in mezzo a ostruire il fiume e stiamo dando una mano alle altre situazioni. A questa giornata che giornata è? Fa parte della settimana della protezione civile. Abbiamo assistito stamattina a un convegno molto interessante che riguarda i fiumi di Bologna. Molti di noi non sono di Bologna per quanto riguarda la nostra associazione quindi abbiamo anche imparato qualcosa che non conoscevamo. La vostra associazione di dov'è? Allora, la nostra associazione ha sede a Bologna ma qui a Bologna ci siamo da pochi anni. In realtà esiste a livello internazionale e a livello nazionale abbiamo realtà più sviluppate diciamo rispetto a quella di Bologna per quanto riguarda la protezione civile, anche antincendio, soccorso costiero, tendopoli e così via. Nuova Acropolis. Esatto. Grazie. A lei.